Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Piede Sul Joystick, oggi siamo qui sempre con un video di 5 minuti, di 5 minuti 30 secondi per dirvi che anch'io farò la sfida challenge, non so se neanche se dico così, per di buttarsi l'acqua addosso, fredda non so se ragazzi farò la donazione, non perché non voglio farla, ma non so il sito, non so niente, se no potrei anche farla tranquillamente se mai ditemelo che la faccio, quindi mi butterò l'acqua fredda addosso e lo farò il 28 agosto ragazzi oggi fino al 27 sono impegnato, comunque i video usciranno, però il 28 agosto, giovedì, mi butterò l'acqua fredda addosso anche io e attenzione, nominerò qualcuno, penso proprio che sia, lo sapete, quei due sul joystick, io sono uno, chi è l'altro? Shadow, preparati!